Questa sera sarò di matrimonio, si sposa uno dei miei migliori amici, un fango va, e quindi devo indossare un profumo top, un profumo non elegante di più. E ho preparato una selezione di 5 profumi top, ovviamente presenti qua in profumeria e nel mio shop online, e ovviamente dovrò scegliere uno tra questi, adesso io ve li faccio vedere, e poi voi nei commenti mi dite la vostra, voi nei commenti mi consigliate quale indossare tra questi. Iniziamo da Faris di Cajal, un profumo ispirato ai cavalieri, un profumo elegante, un profumo che mi ricorda un cavaliere con una splendida armatura argentea, elegante e raffinato, importantissimo il profumo di un cavaliere. Poi ancora, bel fiore di Oman Luxury, questo lo vorrei indossare perché mi ricorda una persona a me molto cara, e perché comunque è anche lui elegante, raffinato, un bellissimo floreale. Oltre ai fiori c'è una bellissima apertura fruttata, c'è anche la nota della carota che lo rende unico, insomma, un sogno. E poi ancora, uno dei miei marchi del cuore, una delle mie maison preferite a Taralas, con metallic hood, profumo speciale perché l'ho regalato ad un altro mio grandissimo amico per il compleanno, profumo speciale perché è elegantissimo. Un vetiver del Madagascar fantastico, un hood dell'House super mega elegante, un'apertura fruttata con la pera, con l'arancia, con il limone e poi rose e violette, insomma, un tripudio olfattivo, uno spettacolo, metallic hood. E poi ancora l'eleganza, la raffinatezza, il lusso più sfrenato con Abrage di The Spirit of Dubai. Questo è il profumo di un re, questo è il profumo di un re amato e adorato dai suoi sudditi. E dal profumo del re ci spostiamo al profumo di un faraone con oro nero. Mamma mia! Un paciuli, un legno di sandalo, uno zafferano, un accordo cuoiato, vanigliato, ambrato orientale, pazzesco. Un profumo unico che mette in soggezione chiunque. Riepilogando li trovate tutti qui da me in boutique nel mio sito online e vi rinnovo l'invito a consigliarmi il profumo per questa sera nei commenti.